19 scaracchino si avviò a passo deciso verso le segrete con gli scadaringa fuori dai piedi niente gli avrebbe impedito di uccidere quei tre onesti soldati aveva intenzione di sparare loro di persona poi ci sarebbe stato tempo a sufficienza per inventare qualcosa magari avrebbe messo i loro corpi nella camera blindata dove erano conservati i gioielli della corona per poter dire che avevano cercato di rubarli scaracchino aveva già la mano sulla porta delle segrete quando una voce parlò piano nell'ombra alle sue spalle buonasera lord scaracchino si voltò e vide lady eslanda con l'aria seria e i capelli corvini che scendeva da una buia scala a chiocciola e ancora svegliami lady disse scaracchino inchinandosi sì disse lady eslanda con il cuore che le batteva forte forte io non riuscivo a dormire e ho pensato di fare due passi non era vero in realtà eslanda stava dormendo benissimo nel suo letto quando era stata svegliata da un frenetico bussare alla porta della sua camera era bertina la cameriera che aveva servito il vino a scaracchino e ascoltato le sue bugie su augusto bottone bertina si era talmente incuriosita dopo avere udito quella storia che era andata in punta di piedi fino alla stanza della guardia e accostando l'orecchio alla porta aveva sentito tutto quello che era successo quando i tre onesti soldati erano stati trascinati via era corsa a nascondersi poi si era precipitata di sopra a svegliare lady eslanda voleva aiutare quegli uomini che stavano per essere giustiziati la ragazza non aveva idea che eslanda fosse segretamente innamorata del capitano buon uomo era solo quella che le piaceva di più fra tutte le dame di corte e la conosceva come una persona gentile e intelligente lady eslanda le aveva dato delle monete d'oro e le aveva detto di lasciare subito il palazzo perché temeva che la ragazza potesse essere in grave pericolo poi si era vestita con mani tremanti aveva preso una lanterna ed era corsa giù per la scala chiocciola accanto alla sua camera prima di arrivare in fondo aveva sentito delle voci aveva spento la lanterna e sentito l'isca da ringa ordinare che il capitano buon uomo i suoi amici fossero portati nelle segrete invece che essere fucilati da allora era rimasta nascosta sulle scale perché aveva la sensazione che il pericolo che minacciava quei tre uomini non fosse passato e infatti ecco lord scaracchino che si dirigeva verso le segrete con una pistola sa dov'è il primo consigliere chiese lady eslanda credo di avere sentito la sua voce poco fa o l'isca da ringa è andato in pensione disse scaracchino davanti a lei c'è il nuovo primo consigliere milady congratulazioni esclamò lady eslanda fingendosi compiaciuta invece che terrorizzata quindi sarà lei a presiedere il processo ai tre soldati nelle segrete vero a lei è molto ben informata lady eslanda disse scaracchino guardandola attentamente come sapeva che ci sono tre soldati nelle segrete mi è capitato di sentire l'isca da ringa che ne parlava replicò lady eslanda a quanto pare sono uomini stimati stava dicendo che è molto importante che ricevano un giusto processo so che re teo sarà d'accordo perché tiene molto alla sua popolarità come giusto che sia perché per essere efficace nel suo governo deve essere amato lady eslanda fu molto abile a fingere di stare pensando solo alla popolarità del re e ritengo che nove persone su dieci le avrebbero creduto purtroppo scaracchino sentì un tremito nella sua voce e sospettò che fosse innamorata di uno di quei tre uomini tanto da correre di sotto nel cuore della notte nella speranza di salvare loro la vita mi domando disse lui guardandola ancora più attentamente a chi di loro tiene così tanto lady eslanda avrebbe impedito alle sue guance di arrossire se avesse potuto ma sfortunatamente non poteva non credo che sia ogden continuò scaracchino pensieroso perché è un uomo molto semplice e comunque ha già una moglie forse vagstaff è un tipo spiritoso ma è incline ai brufoli no aggiunse dolcemente credo sia il bel capitano buon uomo a farla arrossire lady eslanda ma davvero si abbasserebbe a tanto è figlio di casari se non lo sa per me non fa alcuna differenza se un uomo è un casaro o un re purché si comporti con onore rispose lady eslanda e il re sarebbe disonorato se quegli uomini fossero fucilati senza processo cosa che gli dirò al suo risveglio poi lady eslanda si voltò tremando e risalì la scalacchiocciola non sapeva se le sue parole sarebbero bastate a salvare i tre soldati così passò una notte insonne scaracchino rimase fermo nel corridoio gelido finché non ebbe i piedi così freddi da non sentirli più stava cercando di decidere che cosa fare da un lato voleva davvero liberarsi di quei soldati che sapevano decisamente troppo dall'altro temeva che lady eslanda avesse ragione la gente avrebbe dato la colpa al re se i tre fossero stati fucilati senza processo allora teo se la sarebbe presa con lui scaracchino e avrebbe perfino potuto revocargli la carica di primo consigliere se fosse andata così tutti i sogni di potere e ricchezza che avevano accompagnato il suo viaggio di ritorno dalle paludi sarebbero stati distrutti e così scaracchino girò sui tacchi e se ne andò a letto trovava profondamente offensiva l'idea che lady eslanda che un tempo aveva sperato di sposare preferisse il figlio di due casari mentre spegneva la candela scaracchino decise che un giorno le avrebbe fatto pagare quell'affronto